Ciao a tutti, cosa posso aspettarmi da lui? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram. Massimo Terramaschi, iscriviti al nuovo canale Felicità al Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora mescolate le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Adesso concentrati. Concentrati su questo lui, del quale vuoi sapere cosa ti puoi aspettare. Poi scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Ma puoi aspettare che devi avere una buona forza per poterlo tenere, forse in questo momento è un po' carente, però ce la puoi riuscire. Ma serve impegno per tenere questa relazione. Che hai scelto la carta 2? Eh, devi aspettarti dei grossi cambiamenti che potrebbero anche non essere positivi. Che hai scelto la carta 3? Puoi aspettarti dei momenti in cui si isolerà e ti lascerà comunque da sola. Che hai scelto la carta 4? Puoi aspettarti di costruire una relazione, un nucleo familiare solido. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere. Di qui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.